Sono Sergio Zinni, presidente della consulta delle fondazioni delle gasse di risparmio Umbre. Oggi ci troviamo riuniti ancora una volta qui a Norcia per presentare i vincitori di un progetto importante. Dopo la drammaticità di questo sisma ci siamo posti il problema del rilancio economico di questo territorio. E a tal fine abbiamo voluto che ci fosse la elaborazione di un progetto fondato soprattutto dell'idea. Le fondazioni hanno messo a disposizione per questo territorio a seguito del terremoto 450.000 euro ripartiti tra i vari soggetti. E la caratterizzazione di questi progetti riguarda l'aspetto innovativo, l'aspetto tecnologico e soprattutto l'aspetto turistico. Il tutto finalizzato a far sì che questi progetti nel territorio della Valnerina possano essere un volano di sviluppo. Al prossimo episodio